Dentro a tutti! Bene! Bene, loro, qualcuno di loro a ottobre non muoveva un passo e oggi invece ci fanno già vedere un waltzer e una mazzurca quindi per voi grande saggio questo pomeriggio qua a Maiolo Bene, lascio il microfono al nostro presentatore Elvio Brocchi nonché maestro di ballo? Grazie, buona visione! Pronti? Primo ballo, waltzer! Pronti? 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Facciamo rifiutare un attimo e partiamo anche con la mazzurca. Volevo dire a tutti voi che alcuni di loro, come ha detto prima la Sandra, hanno mosso in primi passi proprio quest'inverno, ma per tutti è possibile ballare. Anzi, c'è la scuola di Villa Grande dei maestri Marta e Valerio che stiamo prendendo appuntamento, ci sono varie serate e si può incominciare a ballare un po' alla volta i nostri balli folclorici romagnoli. Andiamo con il secondo ballo, mazzurca. Vai con la base. Qui si alza la gamba. Qui si alza la gamba. Qui si alza la gamba. Complimenti, complimenti. Bene, una cosa sola, ho avuto un cialino e mi ha detto una cosa, qui ci sono voi due, mi dite i vostri nomi? Alberto e Giulia sono di Maiolo, un applauso. Sono proprio di qui, complimenti. Poi dopo, ecco la loro uscita. Complimenti per i vestiti, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, fermatemi, un attimo, non uscite, mettetevi un attimo, guardi, i nomi di tutti, mi raccomando. Prego, scusate, mi sono dimenticato io, ho sbagliato, mi dite i vostri nomi? Marinella, Marziano, Cinzia, Vito, Rosanna, Varò, Giulia, Roberto, Yvonne, Marco. Bene, un applauso ancora, scusate. Bene, proseguendo il nostro spettacolo.